Grazie a tutti Devo dire che questa vacanza dei ragazzi capita quasi ad hoc Io mi sono fatto un programmino Anche lei ad hoc? No, a Rio Grazie a Cile Panettone mi ha dato tanta notorietà e la possibilità anche di fare altre cose come il teatro per tante stagioni Scrivere un libro che anzi è in ristampa E avere l'offerta da Pupia Vadi del prossimo film che comincerò a marzo insieme a Laura Morante e a Zingaretti Un film completamente diverso e fare anche altri film diversi con Aurelio De Laurentiis che rimarrà per me sempre il produttore principale Berni e Patani Berni e Patani? Non è che la meravigliosa vacanza è una grande sola? Siamo Berni e Patani, le volevo dire che probabilmente c'è stato un errore Oh, guarda che pallonava! Copacabana? Dove sta Copacabana? C'è con fredda? C'è neve pistole? Brando, mio figlio, si è lavorato in regia in America perché mi è pistole lì Ha fatto la regia della ripresa televisiva di questo spettacolo teatrale che ho fatto io per due stagioni E Brando ha detto, speriamo, io mi sento grosse responsabilità ma che si possa dire come nelle più grandi cioccolaterie In questa famiglia De Siga si fa cinema dal 1901 Siga! 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 Siga!